Elisa Russo scende in campo per le europee perché? Per il sociale e per l'impresa, due piaghe effettivamente che dovrebbero essere rimarginate. Il sociale è sempre stato il mio cuore, io ho vissuto per il sociale, do la mia vita per il sociale. Le imprese sono un'imprenditrice, nasco imprenditrice, la mia carriera è stata improntata per l'impresa e conosco benissimo quali sono i disagi che l'impresa vive oggi. Sicuramente un contributo di chi conosce la problematica dell'impresa, la voce dei problemi che viviamo in azienda può essere sicuramente un vantaggio per l'Italia, basta con le persone messe ai posti soltanto perché sono stati più fortunati. Abbiamo bisogno di mettere persone competenti ai posti importanti. Basta vedere cartelloni per strada di persone che hanno defraudato la nostra terra, l'hanno distrutta e continuano imperterriti a voler essere a dei posti di comando. Dico basta a queste cose, siamo noi del popolo, se il popolo è sovrano riprendiamoci la nostra sovranità e dimostriamo che l'Italia è viva e non si farà toccare sicuramente da nessuno.